Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Metroid Prime La scorsa volta abbiamo ottenuto un sacco di potenziamenti per Samus Ovvero il raggio plasma Che ci permette, non so che cosa faccia ai nemici Però ci permette di aprire le porte rosse Quindi con quello insieme al raggio gancio In teoria abbiamo praticamente tutto Abbiamo tutto sbloccato Poi non so se c'è altro potenziamento In realtà anche guardando qua il riquadro Non mi sembra che ci sia altro Quindi potremmo essere alla fine O almeno potremmo essere al raggiungimento di tutti gli oggetti Abbiamo completato gli oggetti da recuperare Poi non so se c'è qualcosa ancora alla tuta Forse sì Forse abbiamo qualcosina ancora da prendere alla tuta O alla morfosfera Oppure un altro oggetto simile al raggio gancio Che non viene segnato lì Comunque i raggi li abbiamo presi tutti I raggi, i tipi di raggi Comunque Stavo guardando la mappetta E praticamente mi sono ricordato Che abbiamo un Dove che siamo qua? Aspetta Siamo nelle superfici di tallon Io devo andare Esattamente di là Perché devo andare alle miniere di Fazon Sud Quindi continuo giusto di qua Dobbiamo tornare giù nelle miniere Perché a livello basso C'è Se quello muore A livello basso C'è un coso C'è un portone rosso Che adesso possiamo aprire Prima non potevamo aprirlo Adesso sì Quindi lentamente scendiamo Grazie E vediamo di prendere Quello ascensore Tra l'altro Piano piano appunto Leggo i vostri commenti E mi avete detto Che un Un sigillo ciozzo Non l'ho preso Cioè L'ho visto infatti Quindi vi ringrazio Perché Me lo sarei dimenticato lì Adesso lo andremo a riprendere un giorno E praticamente Ci sono passato davanti L'ho scannerizzato E non l'ho preso E in realtà Devo entrarci dentro Cioè praticamente Devo Devo andarci sopra E non l'ho fatto L'ho solo scannerizzato E non va bene Quindi un giorno Ci ritorneremo Ora Anche qua Per esempio Vedete Tipo tutti i visori Li abbiamo Il problema di sta roba Dei visori È che con Con quello della scan Io in teoria Dovrei scannerizzare tutto Perché mi mancano Diversi dati Aspetta un attimo Qua dove sono? Questo che portone è? Rosso Quindi vado lì Arrivo in fondo E mi lancio giù Ok Si fa Ah sì ok Mi ricordo anche qual è Quel rosso lì E appunto adesso Possiamo andare a recuperare Quelle cose In realtà ce ne sono Molte Di cose da recuperare Perché Con raggio Qua ci sono i viola Vabbè Era il diavolo Con raggio Gancio E con questo raggio Possiamo fare un sacco di cose Che però Oh cacchio Aspetta però c'è quella Aspetta 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 C'è la barriera Toccherebbe trovare un modo Per passare con la barriera Prima fuori loro Ok Allora Come facciamo a buttare giù Quella barriera? Bella domanda Capo di forza attivo Accesso vietato E fin lì L'ho visto anch'io Che attivo Lo so Mi dici come buttarlo giù? No Rimbalza proprio O lo disattiviamo Da qualche parte Non so da dove Ma ammazzati Uh O troviamo un modo Per disattivarlo Perché tanto Quello ci rimane Dove è l'altro? Magari c'è tipo Un pulsante Da qualche parte Cacchio Questo l'avevo visto Mi sembrava Mi sembrava tipo Una porta Ciao Fammi vedere Eh no Ma sarebbe Se avete cosa Sarebbe da fare? Sarebbe da rigirare Tutto con questo Cioè del tipo Controlli ogni angolo Che non ci sia qualcosa Da Da accendere Da pigiare Boh Però è un casino Cioè è veramente Un lavoraccio Che se sarebbe da fare Appunto Magari con i raggi x Con i raggi x Vedo qualcosa Di diverso Perché quel robolino Mi convince Cioè Sicuramente va disattivato Ma come? Eccolo Eh ma cacchio Io non riesco ancora A pigiare il tasto Comunque Cioè non riesco A cambiarlo veloce Non so Molto valente Per Gamecube Era meglio Può essere Non avendo giocato Uh Micro fratture Nel cancello Di bendezio Tanan tan tan Tanan Ci siamo Era quello che cercavo Ero Sicurezza Particamente l'usa Campo di forza Disattivato Tutto Tutto Good Let's go Sto dicendo che Sicuramente Per Per Gamecube Era molto Più facile Forse Non lo so Bisognerebbe Vederlo Cioè magari Avevi un tasto Già preimpostato O comunque Con quella Levetta analogica Era anche Abbastanza più facile Cioè almeno Per come mi ritrovo io Perché qua Premere il più O il meno È fastidioso Salve Un potenziamento A cosa Eh Eh Ah no Ok Giustamente Perché Ci sono anche I missili E ogni missile È collegato Anche all'arma Che usi Quindi Lancia fiamme Con il raggio Plasma Porca vacca Ok Abbiamo un lancia fiamme Adesso Adesso voglio vedere Comunque dobbiamo arrivare Nella zona verde Laggiù noi Perché dobbiamo scendere Adesso che abbiamo La porta là Da aprire Quindi Andiamo tranquilli Oh Eccoli Vedi Dati ricevuti Scansione Anomale Rivellazione di Fuzzle Tac Trovate il posto Dove andare Eh infatti Ma io andavo giù lì Base Elite Ok Sì Io stavo per andare giù di qua Infatti Però per andare qua Ascensore Grotte Maggore Sud Ma questo l'ho già fatto Sì perché Noi veniamo da qua Dal giallo Però per il giallo Dobbiamo andare al verde Per il verde Dobbiamo andare Dritto di qua Dove sto andando Sì È giusto Vedete Praticamente Sono degli ascensori Sì Però non hanno animazione Cioè l'animazione Che fa di solito Direi che si muove Fa tutto il paesaggio Tutta Oh wow Stiamo scendendo con un ascensore Non lo sapevo Ecco Quella non c'è Però Si capisce Allora Qui dritti Fino a questa porta Fatemi vedere Più che altro Non vorrei No Mi sa che è tutto giù Ah no Invece è anche di là Questa Perché quella Non è fatta Molto probabilmente Ci arriviamo da qua Dalla porta rossa Giù Quindi prima Andiamo giù di qua Cioè prima scendiamo Facciamo tutto il giro E poi ci dirà Ok Passa di là Va bene Ci sta Facciamo un bel giretto Lì c'era qualcosa Lì mi sa che c'era Il robo del bendezio Qualcosa Del genere Fuck Ok Sono volato giù di sotto Aiuto 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 Ci sono i plasma Questi sono loro Ci sono anche le torrette Ma davvero Fuck off Torrette Ci sono quelli gialli Piano Ragazzi siamo circondati Ok Un altro è andato Là c'è il viola Ma che cacchio c'è Il concerto di colori Qua Guardalo Sfigato È morto È morto Sì Buon godo Te Wow Cacchio 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 volava Finito Bu Posta Maledette torrette col paloro Allora dove siamo Siamo giusti E' il cacchio Ma qua? Ma io l'ho fatto sto pezzo? Tutto sto fazon? Non me lo ricordo mica tutto sto fazon in giro Cioè mi ricordo quell'area con un po' di fazon E niente, lì ti diceva No, guarda, non puoi andare qua Ma tutto sto fazon? Anche sto pezzo con la palla Cosa l'hanno fatto tutto? Siamo sicuri? Ah, vediamo Ah, sì Sì, sì Questo me lo ricordo io E ma... che faccio? Cos'è? C'è un qualcuno È un sopravvissuto Ma quel rosso là comunque non riesco a passarci Allora, oh Oh, sopra Non mi ricordo sopra cosa c'era Però sopra... a parte che mi sa che c'è un nemico Perché lo sento sbavare Proviamo a vedere Guardalo, guardalo, è giallo È un giallo Che c'è che ci fai là, te? Toh È caduto È ancora vivo Sei molto fortunato, amico No, non è vero, è morto Ok Ah, qua in teoria c'è una porta bianca Che a noi non interessa Perché noi sto pezzo l'avevamo già fatto Io qua c'ero già venuto Arrivo di là Sì Chi è? No 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 Fuori Io qua c'ero già venuto Vai Piano Piano Questo me lo ricordo, raga Ma dove c'è che stiamo andando? Ah, l'ascensore Magmur sud Allora, io a Magmur devo farla una roba Ovvero prendere il cioso Quel sigillo lì Non credo che ci servirà altro qua Voglio capire quel Questo l'avevo fatto? Ok Non so se Sì, questo l'avevo fatto Non so se avevo preso i danni Perché non ce l'avevo il raggio gancio qua Però se questo è sbloccato O è sbloccato perché siamo venuti dall'altra parte Non lo so Sta di fatto che noi dobbiamo passare per quel robo rosso Per quel portone rosso E non si può passare Perché è cos'altro? C'è tutto il fazion davanti quindi L'alternativa sarebbe Trova un Ho capito dove siamo qua Ok, aspetta Qua c'era il bendezio Allora, veloce 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 Io a sto punto vado giù e mi lancio Cioè Tanto abbiamo visto che il fazion fa danno sì Però Neanche così tanto Quindi abbiamo il coso Andiamo Forse ho sbagliato Non lo so Però siamo vivi In un modo o nell'altro Questa qua si passa? No No Ma lì c'è una capsula Raga What the hell? Cancello di sicurezza è bloccato Il sistema di comando Si trova dalla parte opposta Scusa Io devo arrivare lì Ho sbagliato Allora Dovemmo passare per il rosso Dovemmo andare da là sopra Quarantena A metroid Ah Ma dov'è sto posto? Quanto lontano da dove ero io? Molto Non so neanche da dove sono sceso Ah niente Devo tornare Devo tornare su Erobo giallo No aspetta Sì Non ci capisco più niente Sono troppi piani Aiuto È dall'altra parte Bene Dobbiamo andare là In quarantena A metroidi Ah Perché? Perché stai con? Raga 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 Aiuto Abbiamo un problema O buttiamo giù sto coso O non riusciamo a passare È morto Ok Per fortuna Raga abbiamo 57 Di vita Più vabbè La capsula extra Ma è pochissima Ok Non si è messi bene Io devo andare là Devo andare a salvare Devo andare a recuperare la vita Per forza Cioè qua ho rischiato veramente tanto Dov'è? Dov'è che me l'ha messa? Sotto? Sì È lì La sala è il mio salvataggio Apri Edmin Edmin Apelo Oh mio dio Avrei perso tutto il coso Perché non c'era il salvataggio Però ci stiamo avvicinando Siamo vicini Merizia è stata completamente ricaricata Grazie Stiamo arrivando Dov'è che devo andare qua? Tutto dritto E poi laggiù Dai Piano piano Ah Ma guarda dove siamo Quel posto che dicevo prima Quello che c'aveva tutto il fazon E non riuscivamo a passarlo Ok Cioè in teoria Adesso non possiamo comunque passarlo Guarda che loro sono Buono Cioè adesso non possiamo comunque passarlo Perché Olè Vedi come si fa Enfimetroid Piccolino Eccoli Bene Ma questi non devono rompere Noi non possiamo andare di là Vero? Non capisco Io dovrei andare di là A parte che non ci vedo niente Scusa eh Scusa un attimo Che faccio a passare di là io? Sono qualcosa da scannerizzare Dati Questo cos'è? Per me? No O mi lancio Sono molto propenso a lanciarmi io raga Cioè vado direttamente di là a piedi Che anche me ne frega Però poi non vorrei che poi Non riuscisse a saltare Non c'è un gancio Sapete che No davvero Non vorrei che non riuscisse a saltare Qua c'è la fa Cioè qua riesce a saltare Organismi fungine hanno subito Un aumento della massa Del 40 per No Del 400 per cento Vabbè E questa è l'unica via Non ne vedo altre No non ce la fa Non ce la fa raga Sopra i funghi Ui 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 No Stavo scherzando Mi sembra un Cosa per la pal Sono sopra i funghi È l'unico passaggio Cioè non Non posso passare neanche da sotto Perché sotto Mi dice Che non posso passare Perché Cos'è che c'era qua? Mi dava fastidio Era bloccato qualcosa lì Il rosso Cioè non ha senso O mi scordo qualcosa Che tipo non posso fare Perché Cioè Là c'è qualcosa Sì A parte che non ci vedo appunto niente Cioè non vorrei che tipo Ah aspetta Forse qui Qui era GX Ma dai Ma te pens- Olè To Adesso levamelo Ma pensate No 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 Fuck 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 Vedi che sbagliò Oh Jossic Jossic Ah no è vero Stavo cercando Stavo cercando di cambiare I raggi Col più Mentre ero nella Nella Morfosfera Giustamente Allora fuori dai Ok Però almeno Almeno questo vuol dire Che io Non ho sbagliato Posso venirci qua Perché il mio pensiero Era Non puoi proprio Venirci Dove sono qua Uh Aspetta Ormai ti ho capito Eh Ormai ti ho capito Sì Ma io devo girare Con sto cosa Per tutto il tempo La scapisco tutto però Non c'è di niente Ah Ok Entrando in Morfosfera Me lo togli però Vabbè Già qualcosa Bravo Piano E andiamo avanti